Buongiorno a tutti, Giuseppe Arditi dall'Aresto Più Lombardia, la più bella azienda che ci sia. Oggi lascio parlare gli altri. Sentite cosa dicono di noi. E buona visione. Ciao, a presto! Bello, è interessante, stimolante, ci piace. Un'azienda ricca di novità, ha sempre tante belle iniziative, per cui è molto interessante.